Come si sta bene, mamma! Felce azzurra Paglieri. L'azzurro continua, anche con il nuovo deodorante naturale 48 ore. Come si sta bene, mamma! Nuovi Crack & Snack pavesi, con la leggerezza del riso, della soia e il gusto del sesamo. Crack & Snack, riso e soia. Lo snack che dà gusto al benessere. L come linea. I come indispensabili vitamine e proteine. N come niente, grassi e aggiunti. E come equilibrio a colazione. Ah, come appetitosi, croccanti fiocchi di cereali. Kellogg's Special K. Speciali per stare in forma. Placca! Gengibiti, tartaro. Che confusione avevo in testa. Per evitare danni ai denti, è meglio avere le idee chiare. Yodosan è un dentifricio antibatterico. È efficace per un'igiene orale completa. Io? Io scelgo Yodosan. Protezione globale. Per un alito a prova di bacio, Chloralit. Io voglio avere da te. Baci. E solamente per me. Baci. Tu che morirmi fai. Yeah, yeah. Non mi dire più di no. Yeah, yeah. Non mi dire più di no. Nessuno dirà più di no ai tuoi baci. Chloralit in pastiglie gomme con erbasol rinfresca ed odora l'alito. Mi puoi baci amore. Chloralit. Alito sicuro. Oggi anche nell'astuccio trasparente. 40 confetti per 40 freschissimi baci. Bambine. Bambine. Bambine, ma come nemmeno una vetta, papà. E mamma, oggi come fa a fare la pasta? Eh? Oggi la pasta fresca la fa Giovanni Rana. Con quegli ingredienti, con quel gusto e con quella passione che solo lui riesce a metterci. Oh, vuole questa pasta fresca di Giovanni Rana. Qui domattina le bambine... No. Non ha battuto. Ma è una Citroën Saxo. Che forza! Ha una forza magnetica. Ma no, ha la forza dei prezzi Citroën. E questa Saxo costa solo 15 milioni e 900 mila lire. Andiamo su. Ma è un altro mondo. Che forza! E che equipaggiamento. Solo 15 milioni e 9. Oppure 10 milioni in 36 mesi a tasso zero. Ma è un'offerta dell'altro mondo. È un'offerta Citroën, un'offerta con i piedi per terra. Oh, cara! Ma, i miei Babybel! Babybel, il bello è che... Lo puoi portare con te? Tutto il gusto c'è. Del buon formaggio e Mini Babybel. Mini Babybel, il mini formaggio che esce dal solito, i Bel. Nuovi crack e snack pavesi. Con il gusto del pomodoro, del formaggio, dell'olio extravergine. Crack e snack pomodoro. Lo snack che dà gusto alla leggerezza. Barth, detto bimbo, bisonte, giambo. Dico, cerchi di impressionarmi. I Terence. Siete venuti per l'arruolamento? Ah, questa volta sono poliziotti. Di più super poliziotti. Vedo che lei sa dove mettere mani. Sperri veri, specialisti in piani segreti, alfabeti muti, cazzotti urbani. Geronimo! Bud Spencer, Terence Hill, i due super piedi quasi piatti. Stasera a 20.30, canale 5.